Quando ho cominciato i miei studi, era impensabile che una donna facesse medicina. Oggi sappiamo che anche i piccoli idioti possono imparare. Buongiorno signora, Maria Montessori. C'è per l'enfant. O vuoi prendere l'enfant come ça? C'è voi che vous en occupe? Non. C'è un istituto pedagogico qui, non un orferino. Dai! Les idiots restent idiots, ils ne guérissent pas. Bravo! Non fanno là, alors? Non, non, non. È un'educazione piena d'amore. Quella che ci ha permesso oggi di portare qui questi bambini all'esame del corso preparatorio. È una bella dina. È stato un grande successo, Maria. Ma quanto vale un successo se il prezzo da pagare è questo? Io voglio stare con mio figlio. Ma sai che non è possibile? Perderei la mia reputazione. Non, 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 tu sei un uomo, nessuno sarebbe. Dì, 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 j'ai inventé une méthode. No. Sì? Raconte un'histoire. Je veux rivoluzionare l'école. Tu stai un po' esagerando, Maria. Seguite bene il colore, eh? J'ai l'intuition que les méthodes développées à l'institut vers un oriente specifice à l'éducation des idées. Blu. Io non posso continuare a farmi schiacciare dal tuo egoismo e dalla tua ambizione. Questa è la mia croce. Partire in guerra per conquistare i diritti del bambino. Che quel è la mia croce. Grazie.